Allora adesso cambiamo argomento. Ieri si è concluso il viaggio della nostra inviata Lucia Goracci nell'Afghanistan che da sei mesi è sotto il controllo dei talebani e che vive una condizione di autentica crisi umanitaria. Vogliamo vedere il racconto di Lucia Goracci, una delle tappe di questo racconto e poi qui in studio ne parliamo con Laura Iucci che è il direttore della raccolta fondi dell'UNHCR, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati, che ha lanciato dal 13 febbraio al 6 marzo la campagna di raccolta fondi Emergenza Afghanistan, non lasciamoli soli e ne parliamo, che è sostenuta tra l'altro anche da RAI per il sociale. Vediamo il servizio di Lucia Goracci. Ho freddo, incrocia le braccine e loro le incrociano. Alcuni hanno calzini bagnati di neve, altri neanche quelli. E non ho pane per sfamarli, non ho sapone per lavarli, né denaro per le loro medicine. Ho solo questa stuoia tra noi, il fango e il gelo. L'inferno di ghiaccio dell'Afghanistan è questo buco dove vive una famiglia, sfollati da 4 anni da Kandahar. Di giorno veniva l'esercito e mi diceva, stai con i talebani. Di notte arrivavano i talebani e ci facevano di tutto. Hamid fa il lustra scarpe. A 100 afghani al giorno, quando va bene 250, poco più di 2 dollari. Da 4 anni questa è la nostra vita, la loro vita. I talebani passano sui gipponi e se ne vanno. Controllano i posti di blocco ogni momento di ogni afgano. Ma i miei bambini, io non ho di che sfamarli. Non c'è burka che possa velarle le lacrime di Aisha. E ci avviamo con lei, dietro a burka e stampelle nella melma. Tra bimbe indaffarate a prendere l'acqua, almeno quella, e donne che sorridono anche alla miseria. Iani, vieni a vedere dove stiamo noi, sorella. E a casa sua, neanche le stuoi a terra. E dal tetto ci piove. E mio marito, che ha problemi con la droga, è da qualche parte, chissà dove. Così se ne va la vita mia e dei miei figli, dice Asma, e le altre donne ascoltano. Così se ne vanno i primi sei mesi dell'Emirato Islamico. Allora, dottoressa Iucci, buongiorno. Bentrovata. Davvero toccante il servizio di Lucia, come si fa? Diciamo, a non porsi la questione davanti a quei piedini, nel freddo, nel gelo, alle lacrime di quella madre. 24 milioni di sfollati che soffrono la fame e rischiano di non sopravvivere al gelo. Come state intervenendo voi dell'UNHCR e con quali aiuti? Avete difficoltà a muovervi sul territorio? Sì, buongiorno a tutti. La situazione, come abbiamo ben visto dalle immagini drammatiche, è drammatica. È la più grande crisi umanitaria a cui stiamo assistendo. Parliamo appunto di milioni di sfollati. E il nostro appello oggi è non lasciamoli soli. Noi, come Agenzia dell'ONU per i rifugiati, abbiamo fatto una scelta doverosa e non priva di rischi, cioè di restare ed aiutare il popolo afghano. E oggi è quello che chiediamo a chi ci sta ascoltando, è di unirsi a noi e alla RAI, che ha deciso di appoggiare questa campagna chiamando il numero 45588, mandando un sms. Perché il popolo afghano non può essere abbandonato. Lo diceva poc'anzi, parliamo di 9 milioni di sfollati. Se consideriamo che peraltro l'80% sono donne e bambini che vivono in condizioni drammatiche, drammatiche a causa del gelo, a causa di una situazione di povertà protratta e di un conflitto che, vi ricordo, va avanti da anni. Noi come UNHCR eravamo lì da 40 anni, abbiamo scelto di restare, di non abbandonarli e oggi chiediamo a chi ci sta ascoltando, non lasciamoli soli. Bisogna mantenere alta l'attenzione perché ci sono tanti elementi che rischiano di farci dimenticare l'Afghanistan, cioè la crisi internazionale di questi giorni, l'Ucraina, eventi di guerra, le crisi economiche, eccetera. L'Afghanistan è lontano e rischiamo di dimenticarlo. Però proprio sono le immagini che ci ha fatto vedere Lucia Goracci che ci riportano drammaticamente a questa realtà di fame, di morte, di povertà estrema. Di disperazione, di gelo. Vi ricordo che anche in Afghanistan c'è il Covid. Vi ricordo che c'è un sistema sanitario al collasso e che parliamo di temperature che possono raggiungere i meno 25 gradi a Kabul. È una città che ha 1800 metri di altitudine. Ora noi come Agenzia dell'ONU per i Rifugiati abbiamo sviluppato in questi nostri 70 anni di storia una grande capacità di risposta nelle emergenze anche quando la logistica è complessa. Quindi il nostro obiettivo è che non lasciare nessuno indietro e raggiungere anche i villaggi più remoti. Come abbiamo ben visto dalle immagini, donne e bambini sono come sempre le principali vittime in questi contesti. Parliamo di... si rischia che entro la metà dell'anno il 97% della popolazione afghana si troverà a vivere in situazione di... al di sotto della soglia della povertà. Quindi parliamo di tutti. Meno di due dollari al giorno per sopravvivere. Quindi parliamo di milioni di bambini, 4 milioni di bambini che non vanno a scuola, 1 milione e 7 di bambini che già ha raggiunto il livello di... al di sotto della malnutrizione. Quindi intervenire è fondamentale e non spegnere i riflettori. Ricorderemo tutti, credo, le immagini di questo... lo scorso agosto quando i talebani sono arrivati a Kabul, le immagini strazianti di quei corpi che cercavano di aggrapparsi agli aerei in fuga. Ecco, è importante che non si spengano i riflettori. Per questo ringraziamo Lucia Goracci, la RAI, per continuare a mantenere l'attenzione su una crisi umanitaria che è destinata a durare a lungo, purtroppo. La questione afghana non si risolverà qui. Noi oggi possiamo far qualcosa per aiutarli. Ripeto, 45588, un sms, una chiamata da numero fisso. Non cambia la nostra vita, ma può cambiare la vita di quelle donne e quei bambini che abbiamo visto in un buco gelato, in una grotta gelata e senza cibo, senza coperte, senza nulla. È quello che stiamo facendo, portando coperte termiche, cibo, bene di prima necessità, sistemi di protezione al Covid. Stiamo cercando di creare presidi medici, di ricostruire le scuole. Ricordiamo quanto sia pericoloso per un bambino vivere in queste condizioni, quanto siano esposti anche a tutto quello che una situazione di conflitto, come quella che abbiamo visto, può comportare soprattutto per i più vulnerabili. Grazie dottoressa Iucci, grazie, 45588. Dal 13 febbraio si può donare, quindi da ieri fino al 6 marzo, giusto? Sì, fino al 6 marzo. Esattamente, grazie mille. Grazie.